Buon caffè a tutti, ben trovati, sempre più caldo, siamo nel mese di agosto ed è arrivata la grande decisione. Ciao Ezio, buona giornata anche a te. Ciao Massimo, buona giornata a te, a chi ci ascolta o ci ascolterà di mercoledì mattina, oppure buon proseguimento di salata a chi ci ascolterà di martedì sera. In ogni caso un caloroso saluto a tutti gli amici del canale. E' arrivata finalmente la decisione del portierone, del nostro grande portiere, della leggenda vivente, diamogli gli appellativi che vogliamo, Gianluigi Buffon dà l'addio al calcio. Dall'addio al calcio, devo dire, alla fine forse poteva smettere anche prima, questo è il mio punto di vista, però così non possiamo non qualificarlo come il portiere della Juventus. Spesso a Top Plan abbiamo cercato di capire quale fosse il portiere maggiormente rappresentativo della Juve e molti hanno eletto Gianluigi Buffon, molti zoffe, qualche, come dire, vecchia Gloria, Anzolin, però Buffon resta, il portiere della Nazionale resta sostanzialmente quello che ci ha fatto, che ha fatto dei miracoli Ezio, no? Spesso e volentieri. Beh sì, questi raffronti con altri immensi interpreti del ruolo vedono sempre cadere, tendenzialmente vedono cadere la preferenza in funzione di quelli che si sono visti all'opera. Ora, purtroppo gli anni non lo consentono più, ma sono convinto che magari c'è ancora qualcuno dell'opinione che che combi fosse il miglior portiere che abbiamo mai avuto. La mia opinione te la dico in chiusura. Certamente va riconosciuta a Buffon una grandezza di proporzioni cosmiche. Ha difeso la porta bianconera per 19 anni, dal 2001 al 2021 con un anno di interregno al Paris Saint-Germain, dove purtroppo nemmeno lì è riuscito ad alzare la Coppa con le grandi orecchie che ha solo potuto vedere da vicino in tre occasioni. Buffon, guarda, io di Buffon ho apprezzato soprattutto una qualità. Aveva dei riflessi che mi permetto di dire sono umani. Assolutamente. Perché ricordo, ho ancora vividi i ricordi di tantissime parate che di volta in volta i telecronisti definivano miracoli su bordate impossibili, scagliate in prossimità della porta e con lui che riusciva comunque ad arrivarci e a mantenere intatto il nostro perimetro. Veramente una capacità tra i pali che davvero non ha avuto nulla di umano. Un portiere che è valso almeno una decina di punti a campionato e in qualche occasione anche qualcuno di più. Mi ricordo che ho avuto il piacere di esserci al suo debutto con la maglia della Juventus, delle Alpi contro il Chievo Verona. Non fu un debutto felicissimo perché subì due gol, uno dei quali per sua responsabilità, perché va detto insieme alle cose bellissime che lo hanno portato per la sua epoca ad essere indiscutibilmente il numero uno dei numeri uno, che insomma nelle uscite non era all'altezza della fama che aveva tra i pali. Tant'è che io ti dico, negli ultimi tempi alla Juventus in qualche modo mi ha messo anche un po' di malinconia perché proprio non usciva più, rimaneva attaccato al paro un pochettino dentro la porta. Entra una porta che nonostante l'età riusciva ancora a difendere in modo assolutamente importante. Ecco, però un pochettino si valuta anche per la completezza del repartorio e diciamo che quello delle uscite, onestamente, quel frangetto lì non lo colloca sicuramente tra i migliori interpreti. Ezio che lui ha vinto tantissimo, come hai detto tu, tranne la Champions, ma era un postiere istintivo rispetto a un Zoff che aveva un senso della posizione importante per cui era difficile vedere Zoff volare tranne rarissime volte per prendere una palla che magari arrivava nel posto sbagliato. Ricordo spesso quando noi prendemmo il gol dal Brasile che disse nella leggendaria partita dell'82 fu deviata da Bergovi perché io ero assolutamente in posizione. Buffon aveva questo istinto animale che lo faceva e lo rendeva superiore agli altri per cui riusciva a intercettare dei palloni che alla fine gli altri non avrebbero visto. È un po' l'istinto che può avere un chitarrista e il dono e il talento che fa la differenza rispetto a un bravo portiere al fuoriclasse. Poi come giustamente tu hai detto forse siamo scesi un pochino in quello che è il patetico, però 932 partite, 29 trofei, mondiale 2006 con delle parate stratosferiche in finale contro la Francia. Mi sento di dire grazie Gigi e tra l'altro quando arrivò era un po' guascone, la Juventus lo mise un po' in sesto, divenne poi saggio e mi sento di dire i migliori auguri di Gigi Buffon che probabilmente andrà verso la nazionale a fare da dirigente, Ezio. Sì, intanto bisogna rimarcare una volta di più le capacità atletiche assolutamente eccezionali e non è un'iperbola di questo ex grande portiere che non dimentichiamolo ebbe un grave infortunio alla schiena che avrebbe anche potuto pregiudicarne la carriera e tra l'altro in un trofeo Berlusconi contro il Milan tant'è che il Milan graziosamente ci prestò abbiati per quella stagione e ha saputo risorgere, recuperarsi ai soliti livelli più che straordinari, ha attraversato anche una depressione. Non possiamo non essergli grati per aver accompagnato la Juve in Serie B in quella disgraziata stagione 2006-2007. Ricordo parate, ma ti dico che hanno del metafisico effettuate con la maglia della nazionale e anche tanti rigori parati massimo, parati ai massimi tiratori del suo periodo. Parliamo anche di Roberto Baggio, parliamo di Totti, parliamo di Luis Figo, anzi io ancora davanti agli occhi quella semifinale con Real Madrid, con Gigi Buffon che è che in notizia Luis Figo, ma insomma quante parate quella contro Lione, una a San Siro contro il Milan, un tiro scagliato da Balotelli, ma ce n'è un florilegio dove è anche assolutamente impossibile stilare la classifica del miracolo più celeste. Detto questo, secondo me ha fatto bene a smettere quando lui ha ritenuto dentro di sé che fosse il momento, a tutta la mia stima e il mio apprezzamento per non essere andato a raccattare gli angaggi a destra e a manca solo in forza del suo prestigioso cognome. Ha chiuso lì dove aveva cominciato questa meravigliosa parabola quasi trentennale e a mio avviso sempre bello che un grande campione chiude il cerchio laddove ne aveva scritto i primi tratti di penna e ricordiamo anche che ha rifiutato in ultimo l'esperienza araba. Detto questo Massimo, per quello che mi riguarda, io credo con quello che ho detto di aver dimostrato un apprezzamento indiscutibile per Gianluigi Buffon, tuttavia, e non è una questione non per nostalgia, non per questioni anagrafiche, ma personalmente per questioni assolutamente tecniche, se la mia vita dovesse essere decisa da una partita di calcio e la formazione dovessi farla io, ecco mi spiace ma nella mia porta colloco Dino Zoff, il quale certamente era meno spettacolare o meno istintivo, come hai detto tu, di Gianluigi Buffon, ma anche perché lui aveva un senso, il suo senso nel piazzamento era sovrumano e questo non perché non sapesse andare in volo e oltretutto va ricordato a proposito che è stato ingiustamente trattato dalla critica su due gol che se si osservassero molto bene con i mezzi di oggi, uno con la nazionale e poi l'altro, segnatamente quello di Magat contro l'Hamburgo, sono gol che per traiettoria, piccole deviazioni, lo esentano da responsabilità. Tu sai Ezio che solleberai sicuramente delle polemiche, però ciascuno ha i propri criteri di valutazione, anch'io per ragioni anagrafiche e affettive riconosco forse la superiorità di Buffon da un certo punto di vista e la superiorità di Dino Zoff da un altro punto di vista, però alla fine se dovessi scegliere scelgo Dino Zoff per questioni puramente sentimentali. Buffon è stato il bascone, ma con una certa eleganza devo dire, questo ne fa la leggenda secondo me, come del resto la leggenda è stata, ed è Dino Zoff. Ezio, no, guarda che Gianluigi Buffon sia leggenda e nessuno può permettersi di metterlo in discussione, no io guarda non ho la minima intenzione di sollevare... No, ma sai già che comunque alla fine qualcuno ti dirà... Ci sono le polemiche, però credo che mi sia legittimo e consentito esprimere una mia preferenza che certamente non è la verità rivelata, non è il verbo, è il mio modo di vedere le cose. Assolutamente, assolutamente. Con questo senza ferire la suscettibilità di nessuno e senza nulla togliere alla grazia di Aupalla che ci ha concesso per 19 anni di avere in porta un assoluto fuoriclasse del perimetro e naturalmente fuoriclasse della nazionale. Iscrivetevi al canale, grazie Ezio e naturalmente ci sentiamo se ci sono avvenimenti eclatanti in questi giorni. Grazie a te Massimo, un grazie preventivo per gli amici che decisano di apprezzare questo contenuto per quello che mi riguarda, buon proseguimento a tutti, sempre e comunque a presto, a UG! Grazie a te Massimo, un grazie a tutti.